Buongiorno, sì, allora devo rimanere entro i 15 minuti di video perché praticamente l'altro giorno ho girato un video con l'iPad, avevo chiesto consiglio a Lucy prima di iniziare perché io ho provato in questi anni a girare qualche video con l'iPad e ho sempre avuto dei problemi, veniva praticamente tutto mosso tipo nave con mare forza 9 oppure non mi caricava i video, quindi ho chiesto a Lucy che mi ha consigliato di usare iMovie, quindi io mi sono messa, ho registrato un video e l'ho messo a caricare, non l'ha caricato perché era un video di 27 minuti e mi ha detto che YouTube ha il limite massimo di 15 minuti così ho richiesto aiuto nuovamente a Lucy e niente Lucy, se stai guardando questo video sappi che non ce l'ho proprio fatta, cioè da nessuna parte, neanche dalla galleria, nulla, quel video lo dovrò cancellare ora, dato che non sono l'unica ad utilizzare l'iPad vorrei che qualcuno che ci capisce più di me mi dica come poter fare perché francamente il limite di 15 minuti non mi appartiene mi ha fatto, per cui cioè non è possibile che uno strumento del genere non mi consenta di caricare i video su YouTube grandi quanto piace a me, non è possibile, non ci voglio neanche credere, mi provo da un occhio, allora no niente quindi fondamentalmente il video serve a me per raccattare consigli, avevo fatto un video sul, intanto mi sposto un attimo, avevo fatto un video sul, scusate, era un mi preparo con voi perché stavo, stavo chiacchierando, non ho lo specchio qua, e ovviamente mi sono persa in 5.000 chiacchiere, vabbè non era un video utile, vabbè di utile, assolutamente non giro niente ma mi sarebbe piaciuto comunque caricarlo, invece niente, era per dire che, no era per dire, ho detto un sacco di cose comunque, aggiungo anche qui che sono andata a vedere la collezione il Cosmo Samurai di Wicon, e che mi ha particolarmente deluso, nel senso che le aspettative della collezione autunnale sono sempre abbastanza alte, più o meno sono le collezioni più o meno le uniche che io guardi, o che comunque apparentemente mi interessino, devo dire che no, potevano fare di meglio, ho visto le, mi interessavano principalmente una tinta labbra, cioè il rosso scurissimo, l'ultimo colore in gamma, che però, meno male che ho swatchato, li ho swatchati praticamente tutti, tranne cose tipo Rosa Barbie, vabbè, colori che non mi potrebbero mai e poi mai interessare, e niente, praticamente questo colore è bello in apparenza, ha tirato fuori tantissimo marrone, una volta asciugato e sopra ha creato una sorta di patina ramata, una cosa orrenda, veramente bruttissimo, ora ho sentito che si ossida, che diventa un po' più scuro, cosa che non farebbe male, ma io solo a vedere una cosa del genere, francamente non mi sarei mai sognata di comprarlo, ma piuttosto me li bevo quei soldi, letteralmente, dovrei mettere un po' di correttore, ma oggi non vuole niente, quindi metto solo un po' di flat, e poi il fondotinta e spray, fondotinta e spray erano l'altra cosa che francamente rendeva interessante questa collezione, come già saprete tutte ormai, le colorazioni sono così assurde, così allucinanti, così scure, che fanno paura, cioè la colorazione più chiara era una colorazione da un mese al mare, è veramente una cosa incredibile, non è proprio possibile pensare anche soltanto di comprarle, non esiste niente, quindi credo che ben pochi italiani avranno modo di, secondo me chi se lo compra, o è proprio scura e vabbè, ma altrimenti, cioè proprio da acquisto compulsivo e basta, perché non esiste, secondo me manco spenderci del tempo per schiarirli, o che so io, secondo me, ogni tanto vedo veramente degli acquisti fatti che non hanno proprio ragion d'essere, poi vabbè, gli illuminanti io non li ho neanche calcolati, logicamente, continuo a vedere pelli grasse, impiastricciate di illuminanti, che io veramente non riesco veramente a comprendere perché, perché francamente passiamo metà del tempo a cercare creme, ciprie, fondotinte opacizzanti e poi, papam, pam, pam, papam, ma, vabbè, non lo capirò mai, credo, vabbè, sì, intanto voi vedete quello c'è nel retro del mio luridissimo specchio, ma mi serve un secondo, ora non mi posso toccare le sopracciglia perché devo riandare dall'estetista perché me le aveva sistemate, io non ero mai andata dall'estetista, allora me le aveva sistemate, me le ha spoltite, ora ovviamente sono già ricresciute parecchio e non le voglio toccare perché voglio vedere un po' col tempo come riesco a sistemarle, insomma, quindi non ci faccio assolutamente niente di particolare, e poi cosa c'era di altro in quella collezione? C'erano degli smalti carini ma niente di che, il più bello secondo me era il nude, ma io adesso ho il semi permanente per cui non ha senso che io compri gli smalti, le palette che noi ho già viste, il mascara non mi ha convinto lo scovolino, comprarli così alla cieca francamente non lo so, il mascara io di queste edizioni limitate e Kiko Waiko non li calcolo mai sinceramente, e poi ho visto che c'è in uscita, che Waiko non c'è, ah il correttore, io ho preso solo il correttore, e poi ho preso due rossetti dell'edizione limitata che c'era al 50% i due rossetti matte di un'edizione limitata che io neanche conoscevo, proprio non avevo idea di cosa fosse, il marsala e il rosso, per poi scoprire che il rosso è molto simile a Ruby Woo, e quindi avrei potuto tranquillamente evitare, mi lavo le mani tanto, evitare di acquistarlo, il marsala invece è molto carino, anche se non so, è un colore che mi piace sulla carta, ma su di me non so, mi ingegnisce tanto, non credo sia molto dato a me, però vabbè, e poi ho visto che c'è in uscita, insomma, credo esca a novembre come un po' tutte le Naked, le Basics, c'è un'uscita la, credo si chiami Ultimate Basics, l'ultima palette della linea Basics appunto, che però è grande, credo sia il doppio delle piccoline, forse sono 12 colori, non lo so esattamente, e sinceramente questa, voi sapete che io ho le due Basics, queste sono più o meno le uniche cose che alla fine mi interessano, tutte le altre io bypasso durante l'anno, non mi interessano tanto, ok, allora sono 11 minuti, io provo a caricare questo video che non ha assolutamente senso, così, vabbè, se avrò questo limite mi piegherò a questo limite, se non c'è altro da fare, pazienza, quindi farò video più corti, però magari mi facilitano un po' e riesco a, e voglio vedere soprattutto se anche la qualità, insomma, si vede meglio del telefono, va bene, io vi saluto, proviamo a caricare, speriamo, ciao!